buongiorno allora life in amsterdam oggi abbiamo beccato anche una bellissima giornata di sole c'è il sole per tutta la settimana e anche mesi video e niente stiamo quasi da mulà perché basta il trambetto bellissima giornata di sole diamo un giro per per hamster io ho sonno ragazzi e già ho pure fame sono sole 11 e 30 da paura e Grazie a tutti Siamo qui a Piazza Dam La piazza centrale di questa città E direi che giro così Adesso entriamo nella strada dello shopping La Calvestrat Sono ancora le 11.46 E ancora presto Mangiare, prendere il caffè American Coffee Siamo in Calvestrat All'ombra devo dire che fa freschetto Stiamo a Nordurov adres Gitti waspitta Calvestrat Siamo in 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 Calvestrat Blumenmarkt Mercato dei Fiori Qui ad Amsterdam, caratteristico ovviamente. Pendoni i fiori, papaveri, tulipani, che cazzo sono qua. Insomma dai, c'hanno parecchie cose, carino, fiori strani che non conosco, a parte non conosco nessun fiore, proprio perché non ci capisco niente, però insomma. Musica Siamo a Let's Plane, un'altra famosissima piazza, dove si trova, a parte l'Apple Store e tanti locali tipici, abbiamo anche, possiamo vedere anche il Bulldog, uno storico coffee shop di Amsterdam, che possiamo, voi no, però io sì, posso vedere le spampate che escono dalle porte del locale, e se ci passi 3-4 volte non c'è bisogno di entrare a fumare, spettacolo. Adesso però mi è venuta fame e voglio andare a mangiare qualcosa, anche di veloce, ma comunque devo mangiare. Dovado, vabbè, qualcosa troveremo. Niente, Avila Settoburghi ha finito. Non delude mai. No 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 Buon appetito!